12-41-030 Musi managgia un po' troppo gaiò Chiama per un preventivo Calmar 0445 51 0080 Per la ballata del Chiampo 0444 42 13 13 Si narra che tutti i bambini Lassù vicino al castello Ascoltassero rapiti le storie delle Befane Domenica 5 gennaio Vi aspettiamo a Brendola Per la prima edizione di Il Borgo delle Storie A Borgo San Michele Dalle 10 alle 18 Passeggiate, mercatini, degustazioni Spettacoli, laboratori per bambini E brindisi all'imbrunire Un evento unico aperto a tutti A Brendola, domenica 5 gennaio Disponibile bus navetta da Piazza del Donatore Su Facebook, Il Borgo delle Storie Signorina, mi può dare un pizzicotto? Voglio vedere se mi sveglio No che non è un sogno I saldi Eticos sono una favolosa realtà Puoi acquistare davvero un materasso nuovo A partire da 150 euro E non solo quello Con i saldi Eticos sconti del 30, 40 e 50% Anche su materassi, guanciali, repi e poltrone Eticos, a Tristino, in via stazione 79 Fantastico, non è un sogno Ora, posso ricambiare il pizzicotto? Eticos, spazio vitale Il liquorificio Carlotto di Valdagno Festeggia il centenario della fondazione Per celebrare il meraviglioso traguardo insieme Vi invita sabato 11 gennaio alle 18 In Piazza del Comune a Valdagno Alla proiezione su maxischermo del video aziendale Un viaggio che risveglierà la sensorialità Di ciascun spettatore Attraverso suoni e immagini Carlotto liquori In ogni bottiglia Un secolo di storia Sabato 11 gennaio in centro a Valdagno In caso di maltempo l'evento si svolgerà in Piazza Roma Con tenso struttura www.carlotto.it Facciamo Piazza Pulita Da sabato 4 gennaio Da facci 3.0 Facciamo Piazza Pulita Tutto scontato dal 30 al 70% Tutto scontato dal 30 al 70% Ma quali saldi? Solo da facci 3.0 Facciamo Piazza Pulita Ad Arzignano In Corso Garibaldi La festa dell'Epifania è la più bella che ci sia Passala in compagnia Vieni a Recoaro Terme Lunedì 6 gennaio La proloco di Recoaro Terme Organizza il rogo della stria Giochi, musica e divertimento per grandi e piccini Lunedì 6 gennaio Vieni a conoscere la Befana Quella originale Arredo Group Store ufficiali Lube In provincia di Vicenza Trentino e Alto Adige Inaugurano la stagione dei saldi A gennaio ti aspettano saldi di qualità Con sconti dal 20 al 50% Su Cucine Lube e Creo Kitchens Camere, camerette, salotti e soggiorni di grandi firme Hai sentito bene? Negli store ufficiali Lube e Redo Group In provincia di Vicenza Trentino e Alto Adige Trovi i saldi di qualità Le feste non finiscono mai da Redo Group Store ufficiali Lube Ci trovi in provincia di Vicenza Attore di Quartesolo Parco Le Piramidi Schio Bassano del Grappa Montecchio Maggiore Tiene Anche sui social e su lubestorevicenza.it Regolamento interno